L'obiettivo del sapere psicologico è quello di aiutare l'uomo a scoprire e sviluppare le sue potenzialità, per uscire dai disagi e trovare il benessere. Il benessere è come un'atmosfera che si respira, è una particolare intesa che si forma tra chi parla e chi ascolta. L'atmosfera è il vero Elisir, la medicina più potente e profonda per curare i disagi psichici. Chi comincia una psicoterapia pensa che lo psicoterapeuta possegga dei poteri prodigiosi, non sa che in ognuno di noi esistono delle risorse con tutte le possibili soluzioni. Si tratta di creare la condizione interiore, cioè quello stato d'animo affettivo capace di favorire il lavoro dell'anima, che sa per istinto cosa è bene per la sua crescita. Qualcosa dentro di noi sa come salvarci, sa come dare senso ai dolori della vita. Nell'anima esiste un'energia creativa perenne e allora si tratta di aprirle la porta e di farla circolare. L'anima sa quello che va fatto, mentre la mente razionale spesso complica i problemi, li vede nei termini sbagliati. Noi soffriamo perché guardiamo dalla parte sbagliata, abbiamo sempre l'occhio proiettato sull'esterno e non ci accorgiamo che la gioia sta all'interno. quindi dobbiamo imparare ad orientare lo sguardo. Qualsiasi decisione importante che vogliamo prendere deve nascere da uno stato di estraneità al problema. Non sono io che decido, non è l'io ma qualcosa che mi abita e che rappresenta la mia essenza, il mio inconscio, quello che potremmo chiamare l'artista interno, l'artista che è in noi. Al di sotto del pensiero del nostro io c'è la saggezza dell'inconscio che decide con un metodo diverso da quello dell'io. L'inconscio è poetico, immagina e vede le cose appunto come farebbe un artista che non vede i disagi come nemici ma li accoglie, non si oppone, non spiega le cose che accadono, non le vuole capire ma fa spazio agli eventi che accadono, si fa vuoto, accoglie come una madre, ospita la sofferenza come farebbe una madre che ospita la vita del figlio senza volerla dirigere o controllare, senza volerla possedere. una madre ospita e quindi si apre all'altro. La sofferenza psichica non deve essere sottoposta al vaglio del giudizio, cosa che l'io è abituato a fare. Anzi, noi non dobbiamo reagire alle sventure ma dobbiamo ospitarle, dobbiamo accoglierle senza pensiero, senza intenzione e quindi senza sforzi. dobbiamo semplicemente guardare senza opporci e quindi dobbiamo cedere. Questo significa essere flessibili e cedere spazio, cedere io, mettere da parte un po' di io. A chi fa così la vita regala in breve tempo l'elaborazione della perdita, il superamento di ogni problema. L'artista che è in noi è creativo, immagina e sa fare del lamento una musica. L'artista detesta i luoghi comuni, detesta la prevedibilità dei ragionamenti e l'argomentazione logica. L'artista sa che i disagi arrivano per portarci verso la nostra diversità, arrivano per offrirci la consapevolezza di ciò che siamo. Allora il dolore non va ragionato o pensato, va piuttosto contemplato. Solo così entra in azione l'artista e fa di noi una persona unica, fa di te un individuo. Questo sa fare l'artista e questo è il suo progetto. Progetta te, progetta la tua rinascita. Per rinascere devi essere nessuno, devi disidentificarti con i personaggi del passato. Le identificazioni si devono dissolvere come neve al sole. La rosa non si chiede se sia difficile fiorire. Il nostro cuore batte senza sforzo. E allora, allo stesso modo, noi siamo la nostra rinascita. Ma dobbiamo mettere da parte, dobbiamo abbandonare l'idea di difficoltà e di sforzo. E questo lo possiamo fare se smettiamo di pensare e di ragionare. Quando l'io pensa, quando pensa all'irrequietezza interiore che lo attanaglia, la complica. Se l'io ragiona sulla depressione che lo assedia, la fortifica, dando la colpa a qualcuno o alla realtà che lo circonda. Ma da dove nasce il malessere? Il sentirsi bene è un fatto olistico, è un fatto totalizzante, ampio, profondo. Richiama l'idea di flusso, oppure richiama la corrente della vita, come la chiama Rogers. Si tratta di sentirsi parte di un tutto che dialoga continuamente con la nostra coscienza. Tu sei il mondo, dice Krishnamurti, e questo flusso continuo nel quale siamo calati va avvertito con i sensi, non con il cervello, non con l'io, che è un limite a questa percezione. L'io è abituato a separare e a dividere, invece l'artista interiore unisce, accosta, affianca, intreccia, vede i simboli e le allusioni. Per lui è tutto in relazione. La realtà è interconnessa insieme a noi. Ognuno di noi è una sintesi della coscienza universale e dunque è un errore di prospettiva quello che ci induce a credere che l'io sia un'entità separata dal resto del mondo. In realtà l'io è il mondo. Soltanto che il problema è che si crede un io separato e vorrebbe dettare la sua legge, ma è sbagliato prendere le distanze dal cosmo. Noi siamo legati armonicamente ad una relazione con l'universo. All'io non piacciono le relazioni. Vorrebbe gestire e staccarsi dalla relazione totalitaria perché la vive come caotica e divorante. E allora, se noi siamo il mondo, chi siamo? Nessuno. Noi siamo nessuno. Questo ovviamente l'io non lo accetta perché è attaccato ai suoi schemi mentali e non li abbandona. Non ama dire di essere nessuno. Vuole raggiungere risultati concreti l'io. Ma i risultati sono maschere. L'io vorrebbe risultati e oggetti. Ma l'artista interno vuole relazionarsi col tutto e perciò non vuole possedere nulla. La relazione è il desiderio di un desiderio. La relazione è desiderare il nostro desiderio e non gli oggetti che invece sono cari all'io. Il volere qualcosa appartiene alla mente, mentre il desiderio del desiderio appartiene alla nostra essenza che è l'artista interno, ovvero la saggezza dell'inconscio. L'io è votato alla sofferenza quando si focalizza troppo su un desiderio particolare e si autocostringe a realizzare quel falso desiderio che lo circoscrive e lo limita in un personaggio ristretto. L'io è limitato. Dovrebbe espandersi. I desideri dell'io sono pensieri fissi e invece dovrebbero assomigliare ai semi che vengono riposti nel buio del terreno e vengono custoditi come un segreto. Quasi vengono dimenticati. Se c'è verità e autenticità in questo desiderio segreto, allora sboccerà. Questo concetto lo possiamo facilmente vedere nelle relazioni che abbiamo. Quando ci liberiamo dal solito schema desiderante, allora finalmente attiriamo la persona giusta perché sono soprattutto la libertà interiore, la spontaneità, la leggerezza, l'entusiasmo che ci rendono freschi e desiderabili. In altre parole, siamo seducenti quando diveniamo artisti di noi stessi e siamo artisti se siamo disposti ad abbandonare una parte della nostra identità, in quanto ne dobbiamo creare una nuova. Ecco che l'io deve allenarsi a diventare nessuno. Il senza nome, colui che abbandona le identificazioni illusorie che rallentano il processo del fare coscienza. Sono le convinzioni rigide che ci rallentano. Le convinzioni intasano il cervello, interferiscono con il lavoro dell'artista interno che ha bisogno di materia grezza, non di identificazioni. Dimentichiamo chi siamo, il che significa purificare il cervello da tutte le idee che ci siamo fatti di noi stessi. Se ci svuotiamo, l'artista può creare una nuova visione. Più siamo offuscati e più ci sentiamo affini al mondo intero. E allora respiriamo in sintonia con il respiro del mondo. Respirare bene è già rinascere, che è come navigare in mare aperto, lontani dal porto sicuro delle abitudini, alla ricerca di nuovi personaggi interiori. Scoprire e dare voce ad un nuovo personaggio nascosto che ci abita è una vera e propria missione esistenziale. È il richiamo creativo della contraddittorietà. Questa è l'arte della flessibilità e quando la perdiamo ecco che ci ammaliamo. La malattia interviene per svuotarci dalle corazze inutili. La malattia vuole rompere il guscio narcisistico dentro il quale si è barricato l'io. Ecco, quando ci troviamo davanti al disagio, quasi sempre tendiamo ad adottare un atteggiamento di resistenza. E scatta la rimozione, arriva il rifiuto. Ma così facendo non permettiamo alla malattia di guarirci. Il disagio è come la febbre che viene per liberarci dall'intruso che si trova nel nostro corpo psiche. La malattia è come i ferri chirurgici che feriscono per guarire. Buona crescita!